Sono molto lieta di essere qui oggi con Formez a promuovere un incontro con i giovani, perché la PA sta cambiando, perché il mondo sta cambiando e perché la PA deve attrarre i giovani per poter assistere e poter portare avanti questo grandissimo cambiamento. Allora, i giovani possono incontrare la pubblica amministrazione quando? Un evento come questo garantisce questo incontro, lo garantisce in via qualificata. Peraltro Formez è molto impegnato e ha portato avanti una ricerca insieme a Censys che ha dato dei dati veramente interessanti. I giovani sono attratti dalla PA, ma alle volte non riescono a capire come entrare nella PA e quindi bisogna trovare il modo per comunicare ed entrare in contatto con loro. Formez lo sta facendo, il Dipartimento della Funzione Pubblica lo sta facendo e eventi come questi ci garantiscono sicuramente un risultato tangibile.